Buongiorno, ben trovati. Primo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che si apre oggi come sempre con le prime pagine dei quotidiani Abruzzesi Oggi Nedicola, oggi 29 maggio si ricorda San Massimo. Apriamo con le prime quattro pagine del centro, iniziamo con l'edizione di Pescara per andare a vedere quali sono i titoli del giornale Oggi Nedicola. Vedete il titolo principale in alto che riguarda il nuovo stadio di Pescara o per meglio dire il restyling dello stadio Adriatico, il rebus del progetto Delegazione del Comune a Roma per sbloccare l'intervento al Ministero. E poi come ogni lunedì grande spazio allo sport, in questo caso anche e soprattutto come potete vedere allo sport nazionale ed internazionale perché quella di ieri è stata una grande giornata a Monte Carlo per le Ferrari. doppietta rossa nel Principato con Vettel I, Reconen II, doppietta delle Rosse come vedete il titolo dopo 16 anni. E poi l'ottavo re di Roma è Francesco Totti che ieri ha salutato il calcio a 40 anni, chiude la carriera il capitano della Roma fra le lacrime dei 67 mila spettatori che hanno gremito lo stadio olimpico per tributare l'ultimo saluto a quello che è stato definito proprio l'ottavo re di Roma per Totti. Si apre una carriera dirigenziale ovviamente nella Roma. E poi vedete in basso Tari ultimi giorni per pagare entro il 31 maggio il versamento della seconda rata. Parliamo ovviamente per questa tassa Latari in riferimento ai cittadini di Pescara. E poi in basso un altro richiamo per lo sport, questa volta in chiave abruzzese. Parliamo del Pescara, Pescara che ha salutato ieri malinconicamente la Serie A con un buon pareggio però allo stadio Artemio Franchi con la Fiorentina. Pescara tra l'altro in vantaggio fino a 5 minuti dalla fine, poi raggiunto dalla formazione di Paolo Sosa. Lasciamo la prima pagina del centro di Pescara, siamo a quella di Teramo e il Teramo festeggia la salvezza. Il Teramo si tiene la Lega Pro, Biancorossi salvi grazie allo 0-0 sofferto contro il Lubezzane. E alla fine dopo tanta paura è potuta esplodere la festa dei tifosi presenti al Bonolis. Vediamo in basso qualche altro titolo, un paio di titoli per quanto riguarda Teramo e la provincia. Di Gennaro decidono i creditori, il crack da 60 milioni, la scelta è tra il fallimento o l'omologazione del concordato. E poi a Giulianova, casa pignorata, bloccata, Equitalia. Siamo alla prima pagina del centro edizione di Chieti, la cronaca in questo caso in primo piano, incendiato il pub di San Vincenzo, Vacri. Siamo nel piccolo centro in provincia di Chieti, attentato nel locale del comune, dato in gestione. Doveva riaprire quest'estate. E poi in basso a vasto cacciati 30 presidenti di seggio, la Corte d'Appello, gravi irregolarità nel voto del 2016. E poi vasto la Tecnopac, rubati 250 metri di cavi di rame. Chiudiamo per quanto riguarda le prime pagine del centro con quella che riguarda l'Aquila, ragazzo morto a 19 anni e giallo, Prato La Peligna, disposta l'autopsia sul corpo del giovane. Ascoltati anche alcuni amici. E poi a fondo pagina, casa dello studente, danni mai pagati, da 4 anni parenti delle vittime, attendono la provisionale. Poi Villa Vallelonga, aggredite da un orso, si salvano per miracolo. E andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Gran Sasso, il caso in procura l'Aquila, esposto del sindaco Cialente nel Mirino. Leggiamo qui nel sommario del messaggero. La società che si è intestata a Repubbliche, fatto gravissimo forse dei reati. Giungla legale, leggiamo sempre qui dal messaggero, dietro la rivendicazione di Campo Nevada. In alto. A Pescara, scambio di baci in piazza, sabato pomeriggio per combattere l'omofobia. E poi anche sul messaggero ritroviamo questa vicenda dolorosa, tragica, di questo ragazzo di quasi 19 anni, morto a Sulmona. Spunta l'ipotesi di un mix fatale. Dunque si indaga per cercare di chiarire e capire le cause che hanno portato alla morte di questo giovane sulmonese. Poi a Chieti, Molotov contro il locale. Prima dell'inaugurazione, attentato a Vacri nel Mirino, il pub pizzeria. E poi vediamo a centropagina, Carlo Toto. A rischio i lavori per la sicurezza di A24 e A25. Emendamenti alla manovrina in ballo. Finanziamento da 200 milioni di euro. E poi lo sport, il Teramo esulta e salva dopo il pareggio con il Lumezzane. E dunque formazione bianco-rossa che parteciperà anche la prossima stagione al campionato di Lega Pro. Bisogna dire che non è stata una stagione granché fortunata per il calcio abruzzese. Anzi, tutt'altro, Pescara retrocesso in Serie B. Il Teramo sarà il prossimo anno ancora una volta l'unica squadra abruzzese in Lega Pro. Poi ci saranno diverse formazioni in Serie D. E poi altre realtà importanti del calcio regionale come Giulianova e Chieti che parteciperanno al prossimo campionato di eccellenza. Ma parleremo in maniera dettagliata di sport, soprattutto nella seconda parte di questo appuntamento, il primo della settimana con Mattino 6. Vedremo anche i servizi sulla partita del Pescara all'Artemio Franchi di Firenze. Soprattutto andremo a vedere cosa è accaduto ieri al Bonolis con la salvezza del Teramo. Ascolteremo anche la voce di alcuni protagonisti. Ma andiamo per ordine, andiamo a vedere le pagine interne del quotidiano Il Centro. Anzi, facciamo un passo indietro perché prima di parlare anche della festa all'Olimpico vedevamo già qualche titolo dalle pagine interne del Centro. Andiamo a vedere come facciamo ogni mattina i titoli dei quotidiani nazionali. Oggi in edicola iniziamo con il Corriere della Sera, la sfida di Merkel a Trump. Si parla di politica internazionale in questo caso. Con la sfida a distanza tra la cancelliera tedesca ed il Presidente Trump nei giorni scorsi, nelle ultime ore c'è stato il G7 a Taormina. Non tutto è filato liscio nell'incontro fra Trump e i presidenti, i governanti dei paesi appartenenti proprio al G7. E poi vedete lo sport in primo piano, anche sulla prima pagina del Corriere della Sera perché il Giro d'Italia numero 100 ha premiato da Moulin il ciclista olandese che un po' a sorpresa, almeno alla vigilia non era dato tra i favoriti. Si è aggiudicato la Corsa Rosa. E poi vedete in basso, altro richiamo di sport, la doppietta Ferrari Show a Monte Carlo. E per chiudere, come ogni lunedì, grande spazio allo sport anche sui quotidiani nazionali. Roma e le lacrime, il romanzo di Totti. Siamo a Repubblica, migranti, l'accusa di Strasburgo, Merkel, Trump è inaffidabile. E poi Roma, piange il suo ultimo re, Totti, ho paura, ho bisogno di voi. Il messaggero, patto sui conti prima del voto, il Quirinale chiede un impegno per blindare la manovra. E poi la favola bella del Capitano che vedete insieme alla moglie e ai figli, insieme alla moglie Ilari Blasi e ai figli, commosso per l'ultimo saluto, almeno da giocatore, da parte dell'Olimpico. Il fatto quotidiano, piazza contro imbroglioni, manifestazione della CGL anti-voucher il 17 giugno a San Giovanni a Roma. Roma e poi la stampa di Torino, Merkel, l'Europa va davanti da sola per la Brexit, le divergenze con Trump, non possiamo più fidarci degli alleati. Dunque piuttosto dura la cancelliera dopo quello che è accaduto a Tormina nel G7. Poi vedete anche sulla stampa, le Ferrari sbancano Monte Carlo, il Brindisi con Champagne per i due ferraristi Vettel e Raikkonen, arrivati ai primi due posti del traguardo e dunque saliti sui primi due posti del palco per la premiazione di questo Gran Premio di Monte Carlo. Davvero una doppietta entusiasmante dopo 16 anni per le Rosse. E poi l'addio di Totti che dice adesso ho paura, libero, mettiamo un cane al governo. Cosa e dove vuole arrivare? Il partito animalista. Intervista a Michela Vittoria Brambilla che è l'esponente di Forza Italia, sempre molto vicina al mondo animale. Poi vedete anche sul libro il titolo che riguarda la Ferrari, che restituisce l'orgoglio all'Italia con la vittoria del Gran Premio di Monte Carlo. Poi il giornale, riforma elettorale, politici, chi rischia il posto, lo sbarramento al 5% lascia fuori dal Parlamento i partiti più piccoli, dagli alfaniani agli ex PC di Bersani e D'Alema. Andiamo avanti il mattino di Napoli, ma Champions siamo noi. Si parla del Napoli, in questo caso De Laurentiis con solo agli azzurri, perché il Napoli ha vinto anche ieri ma non è riuscito a raggiungere il secondo posto e dunque dovrà disputare i preliminari di Champions League per il terzo posto finale ottenuto in classifica. In basso, vedete, Merkel scarica Trump, non ci fidiamo più. E poi il tempo di Roma, non ci resta che piangere, l'abbraccio tra Totti e la moglie Ilari Blasi al triplice fischio finale dell'arbitro dopo la gara di ieri con il Genoa, l'ultima da giocatore di Francesco Totti. E poi, sole 24 ore, la volontari bis non decolla. Si parla di correzioni in arrivo con la manovrina, ma è a rischio l'obiettivo di 1,6 miliardi. Dunque, titolo del sole 24 ore che riguarda ovviamente tematiche economiche. Poi c'è un altro titolo importante, perché per quanto riguarda i contratti della pubblica amministrazione ci sono quattro ostacoli sui rinnovi. Il secolo XIX, il giornale di Genova, Merkel attacca dopo il G7 e scarica Trump, l'abbiamo visto anche dagli altri giornali oggi in edicola. E poi, doppietta Ferrari, trionfo a Monte Carlo. Il gazzettino di Venezia, legge elettorale, la grande intesa, Grillo dice sì al sistema alla tedesca, proposto da Renzi e Berlusconi, favorevole. Anche Salvini, anche sul gazzettino ritroviamo il titolo per il trionfo Ferrari, come su tutti i quotidiani. Gazzetta del Mezzogiorno, patto a tre per le elezioni, da PD Forza Italia e Movimento 5 Stelle, apertura al modello tedesco. E poi Totti, addio al pallone, con una lettera ai tifosi. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo preso oggi in esame. In questo primo appuntamento, appuntamento del lunedì con Mattino 6, possiamo passare alle pagine interne del centro, che dedica grande spazio oggi all'interno del giornale al sport di carattere sia regionale che nazionale. Vedete la festa. Vediamo prima le due pagine dedicate alla Formula 1. Eccola qui, Formula 1, trionfo rosso, la Ferrari fa sognare conquistata a Monte Carlo. Marchionne dice una gara che entrerà nella storia. Andiamo a vedere un attimo da questo specchietto l'ordine di arrivo. del Gran Premio di Monte Carlo. Primo, Sebastian Vettel con la Ferrari. Secondo, l'altro ferrarista, Kimi Rai, con un terzo. Daniel Ricciardo con la Red Bull. Ma andiamo a vedere soprattutto la classifica piloti, che vede Vettel al comando con 129 punti. Poi, Lewis Hamilton con 104. Bottas con 75. E vedete, al quarto posto con 67 punti. L'altro ferrarista, Raikkonen e la Ferrari. E ovviamente prima anche nella classifica costruttori. Ferrari 196, Mercedes 179, Red Bull 97. E poi, dopo la doppia pagina dedicata alla Formula 1, c'è quella dedicata invece alla festa, all'Olimpico. Totti, addio e paura. Tifosi, ora aiutatemi. Ieri strapieno l'Olimpico per quasi 70 mila spettatori. Per l'ultimo saluto a Francesco Totti. Vediamo un altro titolo invece, lasciando lo sport, che riguarda le cronache di Casa Nostra. Autostrade abruzzesi. Parla Carlo Toto, che dice, priorità alla messa in sicurezza. Il presidente della strada dei parchi dice, lavori a rischio su A24 e A25. Ritirato e poi ripresentato l'emendamento contestato. Andiamo avanti per arrivare, lo faremo tra qualche istante, alle altre pagine del centro. Soprattutto per andare a vedere le prime pagine delle cronache provinciali. Partiamo da Pescara. Ecco la prima pagina. Nuova casa del cielo. Ultima chance per il progetto dello stadio. Delegazione del Comune va al Ministero il 7 giugno per ottenere il via libera alla realizzazione dell'intervento bloccato. Si parla del restyling dello stadio adriatico. Parla l'assessore Giuliano Diodati, assessore allo sport, che dice, agiremo anche sul fronte legale, presentando appello alla sentenza che ha confermato i vincoli all'impianto. E poi l'ex ferrotel di Pescara, altri 70 mila euro per i lavori, arriva in consiglio comunale. La variazione di bilancio con il contributo per realizzare la casa dello studente. Ancora Pescara, tassa sui rifiuti, contribuenti alla cassa per la seconda rata. Ancora pochi giorni per il pagamento della Tari. La scadenza è fissata per mercoledì 31 maggio. Con il primo versamento sono stati incassati 5 milioni e 200 mila euro, un quinto del gettito complessivo. e poi andiamo più in basso. Si parla dell'evento organizzato, dei temi sull'Europa. Ci sono i nomi in questo articolo dei vincitori. E poi invece, parlando di sanità, il nuovo pronto soccorso, l'appello di Casciano, che dice, il consigliere comunale di centro-sinistra, che dice, il comune, sblocchi i permessi. Andiamo ancora avanti. Via Tavo. Siamo a Pescara, nel quartiere di Rancitelli. 64 appartamenti bloccati da 11 anni. Corraro, rappresentante dell'Adi Consum, minaccia di arrampicarsi su una gru. Tante famiglie, dice, attendono una casa, ma i lavori continuano ad essere fermi. E poi, appello dei condomini di un palazzo Ater, che dicono, emergenza Fogne, in via Valle di Rose. E poi, cambiando argomento, in cento al flash mob anti-omofobia a Pescara, baci e carezze tra gheia a Piazza Salotto, prevista una proposta di legge regionale. E poi a Francavilla, si parla invece di sanità, prevenzione del melanoma, visite gratis, anche in farmacia. Restiamo a Pescara, anzi, restiamo in provincia di Pescara, perdona a Montesilvano, perché arriva la stangata IMU per i terreni edificabili. Il gruppo Montesilvano 2019 denuncia un aumento dell'imposta comunale. La Giunta ha modificato, dicono gli esponenti del gruppo Montesilvano 2019, i coefficienti, tassa ricalcolata sugli ultimi 5 anni. E poi, a Pescara, tornando a parlare di sanità e di assistenza alle persone più in difficoltà, in via Rubicone, apre lo studio polispecialistico per anziani e pazienti indigenti. A Francavilla, si gioca per beneficenza in campo con la nazionale di calcio della televisione. E poi in basso, invece, l'assemblea del CNA ha rinnovato i vertici. Odoardi è stato eletto presidente della CNA provinciale. Salce è stato, invece, confermato direttore. Siamo alla pagina di Chieti, del centro. In questo caso siamo a Vacri, un piccolo centro in provincia di Chieti, dove ieri c'è stato un attentato al pub di Contrada San Vincenzo. Andiamo a leggere nel dettaglio quello che è accaduto. Gettate da una finestra due bottiglie incendiarie, il locale del comune è stato dato in gestione e doveva aprire in estate. Giamo ancora il sindaco Mammarella, che dice che il comune ha appena riaffidato l'appalto per la struttura a servizio degli impianti sportivi, assicurandoci che non fosse più un night. E dunque ci sono le indagini a questo punto per capire e per arrivare agli autori di questo, che sembra a questo punto certo si tratti di un attentato incendiario. E poi a Vasto, ancora cronaca, botte a moglie amico, arrestato in basso. Si parla di gravi irregolarità per 30 presidenti di seggio. La Corte d'Appello cancella dall'albo tre quarti dei responsabili delle sezioni elettorali. Siamo a Vasto e si parla proprio di queste gravi irregolarità che hanno portato a queste sanzioni nei confronti di questi presidenti di seggio. Lasciamo la cronaca di Chieti e di Chieti provincia. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dal centro. L'Aquila e l'Aquila provincia, come sempre ogni lunedì, più spazio allo sport, meno alla cronaca dalle nostre province. Vedete, a Prato la Peligna, perché è giallo sulla morte in casa del 19enne. La Procura dispone l'autopsia mentre i cannabinieri hanno ascoltato gli amici ricostruendo le ultime ore di vita di questo giovane Antonio Di Pillo, scomparso a 19 anni. A questo punto slittano anche i funerali perché si vuole far luce anche attraverso l'autopsia proprio sulle cause che hanno portato al decesso di questo giovane che vedete nella foto. E poi a Villa Vallelonga, aggredite da un orso, salve per miracolo, tre donne riescono a fuggire, l'animale si è alzato sulle zampe e poi si è dileguato. Sorpreso con la coca, arrestato nei guai un giovane di Pescina, siamo nella Marsica, un suo amico, nasconde la droga in una scarpa. e poi per parlare invece di vita militare, di forze armate, oggi il ministro della difesa, Roberta Pinotti, sarà all'Aquila per inaugurare un reparto. Siamo alla pagina di Teramo, del quotidiano Il Centro, si parla del crack da 60 milioni, di Gennaro nelle mani dei creditori. Domani si deciderà se avviare il gruppo immobiliare al fallimento, effetto scatenante del crollo, l'investimento Orsini 63. E poi in basso, casa ipotecata per debiti, bloccata Equitalia, Giulianova, la commissione tributaria annulla l'atto perché l'abitazione era in un fondo patrimoniale. Siamo arrivati alla pagina della cultura, andiamo a vedere però un attimo questa pagina della cultura direi importante e significativa perché si ricorda purtroppo una pagina triste dello sport internazionale perché si parla dell'attentato dell'Aissel, il ragazzo con lo zaino arancione nell'inferno dell'Aissel, i primi assalti contro gli abruzzesi, un superstite, racconta in un libro la strage di 32 anni fa allo stadio di Bruxelles, i tifosi del Liverpool iniziarono a lanciare Pietro verso lo Juventus Club di Pescara. Dunque c'è questo anniversario tragico di questa finale di sangue che ricorre in questi giorni ed esce questo libro di questo giovane abruzzese che racconta la sua terribile, incredibile esperienza quel giorno all'Aissel di Bruxelles. Allora lasciamo le pagine del centro, poi torneremo a parlare di sport, fortunatamente di calcio giocato e di altre discipline sportive, ma abbiamo ora il tempo prima di fermarci per qualche attimo di andare a vedere alcune delle pagine delle cronache provinciali del Messaggero. Poi come detto nella seconda parte parleremo in maniera molto dettagliata di sport, parleremo del Pescara, del Teramo, ma anche di altre discipline sportive perché i campionati sono giunti al termine praticamente ieri si è chiusa la stagione calcistica delle nostre formazioni ma si guarda già alla prossima stagione e dunque andremo a vedere quali sono gli obiettivi e i programmi delle società abruzzesi. Ma andiamo per ordine ripartiamo dal Messaggero dalla cronaca di Pescara Odoardi presidente della CNA dice l'artigianato è vivo il 45enne imprenditore montesilvanese eletto al vertice dell'associazione la nostra categoria dice il neopresidente sa resistere alla crisi e poi scambio di baci in piazza per combattere l'omofobia e poi ancora a fondo pagina maratonina volley e basket nella giornata dello sport ieri a Pescara oltre 2000 al via della corsa podistica cura della Wisp a piazza Salotto le sfide tra ragazzini con la Robur pagina dell'Aquila del messaggero Camponevada esposto del sindaco Cialente il sindaco contro la società che si è intestata 100 ettari per un investimento turistico nel cuore del Gran Sasso il primo cittadino dice fatto gravissimo ci vuole chiarezza il comune ha informato procura e l'agenzia del territorio e poi biondi tra pendolari e parcheggi domani c'è l'ex ministro Matteoli si parla di amministrative con il centrodestra che serra le fila presentata anche la lista di fratelli d'Italia con i vertici del partito dunque entra nel vivo la campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco dell'Aquila siamo alla pagina di Avezzano Sulmona morto a 18 anni il PM ci ripensa disposta all'autopsia dopo la prima ipotesi di infarto fulminante si valuta la possibilità leggiamo qui dalle pagine del messaggero di una miscela chimica ingerita dal giovane controlli delle forze dell'ordine nei locali della zona il timore è che una sostanza killer si sia diffusa tra i ragazzi e poi siamo a San Benedetto dei Marsi cocaina nel marsupio spacciatore nella rete a Rivi Sondoli invece si parla del cartellone estivo si punta sulla premiata forneria Marconi e sui nomadi andiamo in basso Avezzano domande per i fondi regione sotto accusa mentre a Cappadocia si cambia tre liste in campo nel comune in provincia dell'Aquila per le amministrative in basso invece si parla di eventi in questo caso eventi a Raiano con la sagra della ciliegia con la cittadina Peligna mobilitata per questo importante appuntamento pagina di Chieti del messaggero torna la settimana mozartiana concerto di punta a pagamento parliamo degli eventi nella città di Chieti e poi tre molotov nella pizzeria c'è il video dell'attentatore parliamo di quello che è accaduto a Vacri un piromane sfonda la finestra e lancia bottiglie incendiare nel locale da inaugurare indagano i carabinieri della compagnia di Chieti e poi Lanciano mercoledì arriva il nuovo procuratore Mirvana di Serio mentre a vasto restyling di Porta Nuova ecco la ricetta del comitato pagina di Teramo del messaggero scatta la marcia per difendere acqua e sorgenti del Gran Sasso mentre a Giulianova ride notturno nelle scuole Bottino cospicuo al Crocetti e sempre a Giulianova il dirigente Pirocchi e dei revisori dicono questo bilancio è illegittimo in basso ad Albadriatica stato di salute del Vibrata polemica albergatori forum infine Santomero bancarotta del comune inesistente verdetto del Tar siamo arrivati alle pagine dello sport e di sport parleremo tra poco nella seconda parte di mattino 6 ora ci fermiamo per qualche istante andiamo a vedere anche le previsioni del tempo poi torneremo nuovamente in studio ed eccoci seconda parte di mattino 6 dedicata interamente allo sport abbiamo quasi mezz'ora per parlare di sport partendo come sempre dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali oggi in edicola possiamo iniziare a vedere la prima pagina della gazzetta dello sport che celebra ovviamente i due eventi della giornata di ieri anzi tre per così dire vedete anche questo gioco di titoli in alto roulette rossa formula 1 giro d'italia che è domenica con la doppietta della ferraria a monte carlo e poi in basso la roulette rosa in questo caso perché ad asiago si è chiuso il giro d'italia oggi crono conclusiva all'autodromo di monza ma non ci sono dubbi con la vittoria dell'olandese dal muline che dunque porterà a casa questa centesima edizione del giro d'italia e poi totti ciao roma finisce un'era ieri il capitano ha salutato il calcio giocato non ho dormito ha detto il giocatore della Roma ovviamente è stata una giornata importante per il giocatore giallorosso una giornata storica che non dimenticherà mai poi si parla anche di Kean questo giocatore classe 2000 della Juventus primo giocatore classe 2000 che segna in Serie A a questa età così così giovane primo giocatore classe 2000 a segnare un gol nella massima serie Corriere dello Sport sei stato un sogno Totti l'addio al calcio sembrava una favola sono come un bambino svegliato di colpo vedete la foto ricordo della famiglia Totti con la moglie Irali Brasi tre figli per questa giornata che non dimenticheranno e poi vedete di spalle il titolo con il richiamo alla storica doppietta della Ferrari delirio Ferrari e poi in basso giro trionfo da Moulin Nibali terzo oggi si chiude il giro d'Italia e poi tornando al calcio Napoli-Scioma chiude al terzo posto e poi Crotone salvo Lempoli crolla con il Palermo incredibili le emozioni anche nell'ultima giornata questa sconfitta che in pochi avevano pronosticato dell'Empoli a Palermo con il Crotone che dunque si salva rossa mondiale titola tutto sport core di Totti si parla del trionfo Ferrari a Monte Carlo dell'addio di Totti al calcio giocato nella prima pagina del quotidiano torinese e siamo alle pagine di sport di casa nostra possiamo ripartire dal quotidiano il centro prima pagina di sport il Pescara saluta la Serie A con dignità Caprari e Bebecchi ludono a Firenze ma i Viola pareggiano Caprari e Biraghi convocati in azzurro andiamo a vedere nelle pagine interne Pescara illusione Viola ora si guarda al futuro e poi Zeman una squadra che vince due gare non può fare il campionato di Serie A ha detto al novantunesimo il tecnico Boemo andiamo a vedere anche vi dicevo che si guarda alla prossima stagione quello che sarà il futuro la nuova stagione che ripartirà il 10 luglio a Rivisondoli nel centro montano in provincia dell'Aquila fino al 25 poi la squadra si trasferirà a Palena stasera cena con dirigenti staff e squadra per molti sarà il giorno dell'addio direi per moltissimi protagonisti di questa stagione sicuramente negativa per il Pescara andiamo a vedere le pagelle dell'ultima gara di campionato Fiorillo 6 Zampano 6 Campagnaro 6 Fornasier 5 e mezzo Biraghi 6 Verre 6 Brugman 6 e mezzo Memusciai 6 Muric 6 Bebec 6 e mezzo Caprari 6 e mezzo vediamo anche questa doppia pagina relativa alla serie A con quello che è accaduto tra ieri e sabato sorpasso Crotone festa salvezza vedete 3 a 1 dei pitagorici alla Lazio con il Palermo che non fa regali e dunque si salva il Crotone retrocede l'Empoli e poi Juventus un solo dubbio per Cartiff Barzaglio Quadrado andiamo a vedere invece gli altri risultati della giornata di campionato in serie A Palermo Empoli 2 a 1 dunque l'Empoli retrocede in serie B e va a fare compagnia al Pescara e allo stesso Palermo poi Cagliari Milan 2 a 1 Inter Udinese 5 a 2 Torino Sassuolo 5 a 3 Sampaglia Napoli 2 a 4 Roma Genoa 3 a 2 e poi c'è un titolo vediamo un articoletto in grigio che riguarda l'ex pescarese Marco Verratti che dice credo di restare al Paris Saint Germain dunque dovrebbe restare in Francia il talentuoso centrocampista originario di Manopello prima di passare al Teramo andiamo a vedere le pagine relative al Pescara del messaggero poi andiamo a vedere anche il servizio di questa partita Pescara l'ultima beffa Biancazzurri in vantaggio di due reti al Franchi si fanno rimontare dalla Fiorentina in 10 uomini la squadra abruzzese crea e spreca molto ma nel finale concede troppo e si fa raggiungere e poi il boemo ovvero Zeman senza rimpianti abbiamo fatto troppo poco andiamo a vedere dunque cosa è accaduto ieri all'Artemio Franchi due a due tra Fiorentina e Pescara il tribice fischio finale di Martinelli di Roma è arrivato come manna dal cielo per mettere finalmente fine ad una vera e propria agonia è terminato all'Artemio Franchi un campionato che più brutto non poteva essere per il Pescara ora le vacanze ma non per tutti con la società proiettata già la prossima stagione ma anche alle trattative che potrebbero riservare sorprese si ripartirà con Zeman e una formazione che verrà stravolta quella del Franchi è stata per molti Biancazzurri l'ultima gara della stagione ma soprattutto l'ultima gara con la maglia del Pescara visto che nel mercato estivo ci sarà una vera e propria rivoluzione necessaria anche per azzerare una stagione da film horror al quarto d'ora Pescara in vantaggio con Gianluca Caprari bravo a finalizzare un'azione di contropiede iniziata da Verre per il giocatore Biancazzurro di proprietà dell'Inter è una bella soddisfazione che arriva nel giorno della convocazione nazionale la Fiorentina reagisce in maniera rabbiosa l'occasione più clamorosa arriva al diciottesimo con Vesino che trova due passi dalla porta Biancazzurra la risposta quasi distinto di Fiorillo che salva porta il risultato la squadra di Paolo Sosa prende in mano le redini del gioco anche senza creare grossi problemi però dalle parti delle portiere pescarese al trentanovesimo arriva un altro momento importante della gara perché Chiesa già monito va a commettere fallo a centrocampo su Caprari andando così a rimediare il secondo giallo ed il rosso Fiorentina che resta in dieci per l'ultimo spicchio di primo tempo per tutta la ripresa al quinto Caprari ha l'occasione per il raddoppio ma sulla sua conclusione risulta provvidenziale la deviazione di Rodriguez la squadra di Sosa si affida alla linea verde con Agi che al sedicesimo su punizione chiama Fiorillo al salvataggio in angolo il Pescara meglio tardi che mai appare in serata e al diciannovesimo con il redivivo Bebek trova il gol del 2 a 0 la gioia del doppio vantaggio dura però solo 60 secondi visto che sul capovolgimento di fronte arriva il 2 a 1 di Saponara che tiene così aperti i giochi l'ex giocatore dell'Empoli è il più attivo fra i suoi e così al ventinovesimo e prima Fiorillo a dire no all'avanti Toscano e poi Zampano a respingere il pallone sulla linea ancora sulla conclusione di Saponara il finale Amaro visto che al quarantesimo Vesino con un tiro potente ma forse non del tutto irresistibile Beffa Fiorillo per il 2 a 2 che la Viola trova in 10 uomini per il Pescara da domani ci sarà da pensare solo a B con la necessità di provare a restituire ad una piazza una piazza importante come quella di Pescara una stagione all'altezza della situazione speriamo sia davvero così dopo un campionato sciagurato per i colori e biancazzurri Pescara che ripartirà dalla serie e B e tra l'altro con tante novità in organico a proposito di Pescara vi ricordo questa sera l'appuntamento da non perdere con Replay per esaminare proprio questa parte finale di campionato del Pescara e per parlare anche e soprattutto del futuro dei biancazzurri Replay trasmissione condotta dal nostro Enrico Rocchi noi chiudiamo il capitolo relativo al calcio di Serie A prima di parlare di Teramo e di Lega Pro c'è un titolo sul messaggero che riguarda l'Aquila Rugby parla il presidente Zaffiri che dice l'Aquila serve il supporto della città abbiamo disputato una grande stagione ma per andare avanti non basta solo il contributo degli sponsor dunque si aspetta una mano dagli imprenditori locali il patron della formazione di rugby Aquilana andiamo avanti e siamo arrivati proprio alla pagina relativa al Teramo Teramo il pari vale la salvezza sofferto 0 a 0 con il Lumezzani all'andata in terra lombarda la gara era finita anche in parità ma per 1 a 1 in virtù del miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare i biancorossi con due pareggi hanno festeggiato la salvezza felice il vicepresidente Cimini la Lega Pro e la nostra dimensione Ugolotti un traguardo dedicato a Campitelli Caidi piange un incubo che durava da Savona andiamo a vedere anche come il centro va a commentare questa giornata comunque importante per il calcio Teramano il Teramo al traguardo con un pari sofferto Caidi evita la disfatta il difensore infatti ricaccia dalla porta un tiro a colpo sicuro dopo 62 minuti per il diavolo si chiude una stagione sicuramente non facile e nel finale il diavolo si è chiuso a difesa della porta del suo portiere della porta difesa da Narciso per portare a casa questo importante pareggio vedete le foto l'abbraccio alla fine tra i protagonisti vedete anche gli articoli che riguardano le dichiarazioni del novantunesimo il vicepresidente Cimini quest'anno abbiamo imparato a soffrire poi Ugo Lotti spero di non dover mai più rifare i play out ma noi andiamo a rivedere quello che è accaduto ieri allo stadio Guido Bonolis Teramo 0 Lumezzane 0 nel servizio curato da Andrea Costantini il Teramo è salvo in tre parole è possibile sintetizzare un verdetto che nasconde dietro tanti significati ma quello che più di tutto conta è che la società del patrono Luciano Campitelli si è garantita un'altra stagione in quella che nel prossimo anno tornerà a chiamarsi Serie C e poco importa che l'agoniato obiettivo sia stato centrato al termine di una partita tremendamente brutta e contaminata da una paura che ha dilagnato l'undici di Ugo Lotti dopo l'1-1 dell'andata al diavolo bastava non perdere e così è stato Albonolis è finita 0-0 dopo 90 minuti in cui il Teramo ha pensato solo a non prendere gol proponendo poco o nulla in fase offensiva concentrandosi solo su quella difensiva ma col timore di chi pensa che un gol beffa sia dietro l'angolo così il tutt'altro che irresistibile Lumezzane è rimasto in partita fino alla fine ha provato a spingere ma anche in questo caso parliamo di una compagine con tanti limiti la classifica parla chiaro e tranne una clamorosa palla gol nella ripresa l'unica vera di tutta la gara la supremazia territoriale è risultata sterile e fumosa e i potenziali pericoli ingigantiti solo dalla tensione che ha pervaso tutto il Bonolis con Barbuti e Sanzomini in attacco Ugolotti ha rischiato uno spighi in condizioni precarie che dopo appena 14 minuti ha alzato a bandiera bianca lasciando il campo ha imparato per un 4-4-2 sempre più difensivo 3-5-2 per il Lumezzane con Bonomo quinto di sinistra nella ripresa Ugolotti ha messo dentro anche Fratangelo sperando nel brio del ragazzo di Termoli ma la mossa giusta per poco non l'ha imbroccata Bertoni Rossini appena dentro fa il break a destra la palla arriva a Leonetti e poi a Speziale che calcia ma Nebil Caidi sulla linea di porta Un gol salvato che equivale ad un gol segnato per il centralone di Ravenna Il Teramo sbanda ma resta in piedi con un Amadio che raddoppia tutti e sostiene l'azione dei difensori Fischi per Sansovini quando viene richiamato per inserire Tempesti Il Lumezzane ci prova fino alla fine ma la fase difensiva tiene la porta è blindata e dopo quasi 5 minuti di recupero il fischio di Balice di Termoli sa di liberazione per Campitelli e tutto il Bonolis Il Teramo è salvo e da qui si ripartirà per una stagione nella quale sarà imperdonabile non fare tesoro degli errori commessi in questa andata sportiva Avete visto le lacrime di gioia del presidente del Teramo Luciano Campitelli noi andiamo invece ad ascoltare le parole sempre al microfono di Andrea Costantini del tecnico della formazione Biancorossa Ogolotti Mister quanta sofferenza ma l'obiettivo è arrivato abbiamo sofferto forse più del dovuto però evidentemente quest'anno era questo il destino era questo il destino ci siamo salvati attraverso una grandissima fase difensiva sacrificando anche molte volte nei rientri gli attaccanti però hanno lottato fino alla fine probabilmente ha pesato molto non aver chiuso la partita all'andata perché sei occasioni fuori casa doversi venire a giocare la partita inconsciamente sapere che con un risultato un pareggio però c'è anche da dare i meriti a loro perché hanno fatto una grandissima partita hanno sentito probabilmente meno di noi la tensione di questa partita sono tutti ragazzi giovani probabilmente sono entrati in campo con la mente molto libera noi siamo entrati in campo con la mente un pochettino preoccupata e questo purtroppo alla fine ha pesato un po' sulla condizione e poi soprattutto un cambio dopo 10 minuti in una partita del genere ti condiziona a proposito di quel cambio è stata un po' una forzatura mettere dentro Spighi che non era al 100% a posteriori posso dire che può essere stata una forzatura però è un giocatore di caratteristiche diverse da tutto il resto della squadra giocando con un 4-4-2 è un giocatore che fa le due fasi in questo momento non aveva disposizione perché l'unico giocatore che può fare diciamo interpretare quei ruoli in forma più offensiva è Petrella ma non è in condizioni di poter giocare un'intera partita dispiace perché il test di stamattina era stato un test positivo il ragazzo è molto dispiaciuto però la responsabilità è mia perché poi la scelta l'ho fatta io certo l'inserimento anche di Tempesti alla fine per cercare di avere quello spunto in controvedere che purtroppo la squadra era troppo presa dalla fase difensiva c'era questa tensione di Lagnante allora hanno messo a un certo punto non ho contato hanno messo 5 attaccanti è normale che hanno giocato un pochettino giocando anche un buon calcio perché queste palle filtranti all'andata ci hanno messo in difficoltà ci siamo preoccupati un pochettino troppo e probabilmente la gamba non ha reagito come doveva reagire no a mettere Tempesti perché Sansovini aveva dato tutto Barbuti era uscito di conseguenza il ragazzino non poteva reggere il peso dell'attacco da solo fratangio di consenza mi serviva un giocatore non tanto per attaccare la profondità perché avevo fratangio per cercare di tenere palla in alcune situazioni ci siamo riusciti in alcune no però vuol dire che questo era il nostro destino mister complimenti per questo obiettivo centrato il futuro cosa possiamo dire il futuro adesso con mio figlio e il suo amico che sono venuti a vedere la partita me ne vado a casa e poi domani sicuramente sentiremo hai previsto un incontro con la società no ma io guardo ho trovato delle persone eccezionali basta uno sguardo basta io sono sono contento del percorso che ho fatto spero che loro siano contenti del lavoro vediamo il presidente era molto era molto come si può dire preso teso di conseguenza avrà moda in maniera di smaltire penso di avergli che sia contento stasera perché questo l'ho visto molto molto contento di conseguenza questo mi fa piacere i numeri sono dalla sua parte si poteva migliorare forse il gioco ma c'era anche l'obiettivo da centrare e c'erano dei difetti strutturali evidentemente ma noi abbiamo avuto un percorso altalenante perché noi siamo partiti due partite quattro punti poi abbiamo cambiato modo abbiamo avuto tre sconfitte lì potevamo abbatterci poi abbiamo ricambiato per cercare una una quadratura abbiamo fatto quattro partite dieci punti e poi a un certo punto è successo qualche cosa per cui la sconfitta in casa quel gol all'ottantaquattresimo con la Reggiana ci ha un pochettino condizionato abbiamo perso qualche pezzo perché torna a rivedere non avere esterni di ruolo perché uno è infortunato l'altro si è fatto male dover cambiare continuamente modulo perché poi siamo andati a giocare col 4-3-3 questo può aver condizionato però avevamo la salvezza a un passo l'abbiamo buttata via nonostante aver fatto torna a rivedere 14 partite 20 punti e di conseguenza ritrovarsi dentro questo tunnel non è facile tirare sulla testa e questa è la soddisfazione del tecnico della formazione bianco-rossa Ugo Lotti al termine di questa gara che ha regalato la salvezza alla formazione teramana prima per un lapsus ho parlato di Guido Bonolis Gaetano Bonolis ovviamente lo stadio di Teramo noi parliamo di Serie D con questa pagina dedicata a tutta la Serie D sul centro si parla delle formazioni che parteciperanno al campionato nazionale del prossimo anno in alto San Nicolò in attesa dopo la delusione play-off poi l'Aquila il piano di Ranucci tre anni per pagare i debiti e poi si parla dei nero stellati Prato-La Peligna la formazione che è stata appena promossa in eccellenza Di Marzio resterà con i nero stellati giovedì la festa promozione poi l'Avastese decide il suo futuro Palladini favorito per la panchina in basso si parla dell'Avezzano e Paris vuole un Avezzano tutto marsicano tre tecnici in corsa per la guida tecnica c'è anche Alessandro Delgrosso ma anche Alberto Conti e Michele Scatena e poi il Pineto con Amaulo che è stato confermato al timone della società Biancazzurra Biancazzurra playoff nazionali di eccellenza sorride ancora il Francavilla che arriva in finale continua la rincorsa per tornare in Serie D all'andata i giallorossi si imposero al Valle Anzuca per 2-0 ieri in Terra Umbra l'Angelana ha vinto 2-1 ma a passare è stata la squadra di Montani Galli regala la qualificazione ora c'è il Fabriano Cerreto andiamo ancora avanti dilettanti gli spareggi playoff con il Sant'Anna che si impone sul Celano e poi la vittoria del Piazzano vediamo anche il titolo e la pagina che riguarda il Giro del Centenario la Corsa Rosa il Giro d'Italia da Molin il Tulipano Rosa sogno nato sul Blockhouse Trionfo Olandese l'ultima Crono a Van Menen Nibali Terzo dietro a Quintana e poi ritroviamo il titolo sul centro che riguarda il rugby come abbiamo visto anche sul messaggero il presidente Zaffiri lancia un appello per la società e restando sempre al rugby Gran Sasso rinnovato il gemellaggio con il Sambuceto andiamo a vedere dalle pagine del messaggero altri titoli che riguardano altre discipline sportive altre pagine di sport si parla di calcio a 5 in questo caso a pagina 39 4 finali e un Pescara da record si parla del Pescara calcio a 5 che si giocherà lo scudetto nella prima di 5 eventuali sfide con la Luparenze si inizierà giovedì sera a Pescara e poi il volley la SIECO Ortona conferma Simone e Sonia Marchi è presta per una stagione di vertice e poi siamo al basket al basket note amare purtroppo per il Campli niente da fare nella prima gara della finale playoff il quintetto Camplese è stato sconfitto nettamente 72 a 48 sul campo della super favorita Montegranaro e poi ritroviamo anche sul messaggero facendo un passo indietro sul calcio le notizie delle formazioni abruzzesi di Serie D l'Aquila attesa per il vertice con possibili nuove arrivi va stese un tecnico abruzzese in panchina ma potrebbe esserci anche Palladini in corsa e poi Avezzano due in pol per la panchina Paris il patron avezzanese non ha fretta siamo alla pagina del basket dopo aver visto le note a mare del Campli sconfitto a Montegranaro vediamo il Roseto perché dopo il grande sogno Roseto pensa al futuro il coach di Paolo Antonio vorrebbe confermare l'ossatura della squadra sicuro partente Smith che potrebbe andare in Serie A1 e poi invece di Cosmo il patron della Proger Chieti dice annata maledetta ora non so che fare Proger che retrocesso retrocessa la formazione teatina in Serie B in basso vediamo il podismo del golf a Dicecco la maratonina del mare mentre Renzetti vince per quanto concerne il golf il trofeo Human Jest e il Francavilla non si ferma anche il messaggero giustamente celebra l'ottimo risultato del Francavilla siamo le finali nazionali del campionato di eccellenza sempre di calcio ovviamente con la sconfitta in dolore sul campo degli Umbri dell'Angelana 2 a 1 il K.O. per i ragazzi di Montani che però avevano vinto 2 a 0 nella gara di andata e ora affronteranno in finale i marchigiani del Fabriano Cerreto ma già in finale il Francavilla potrebbe iniziare a pregustare il ritorno in Serie D e poi si parla del calcio di eccellenza di due importanti realtà della nostra regione Giulianova torna lo storico nome Bartolini il presidente della formazione Giuliese dice punteremo al vertice poi si parla invece del Chieti parla il patron della Torrealex Chieti e Trevisan che dice resta l'alli siamo pronti per il vertice abbiamo esaurito le pagine dello sport del messaggero ma non quelle del centro siamo quasi in chiusura di questo primo appuntamento settimanale con Mattino 6 torniamo a parlare di basket che festa per gli Sharks Fulz un grande gruppo arena quattro palme in delirio per il Roseto il capitano dice un anno sempre al top e poi come avevamo già visto qualche istante fa per il basket per i playoff di Serie B nulla da fare per il Campli che si inchina al Montegranaro l'impresa non riesce Montegranaro che vedete anche dal tabellino della partita si è imposto con il punteggio di 72 a 48 si parla anche ancora di Serie B in questo caso della Guerra Ortona verso la rifondazione prima lo staff tecnico e poi la squadra e poi la Serie D con Pescara e Azzurra gonfie vele le semifinali di andata per l'accesso alla Serie C hanno visto le due formazioni superare Isernia e Martinsicuro siamo all'ultima pagina dello sport dal quotidiano Il Centro per parlare della Maratonina del Mare la classica di 21 km alla quarta edizione batte il record di presenze tanti gli atleti arrivati anche dal Lazio dalle Marche e dalla Puglia la vittoria è andato al nostro alberico di Cecco amico della nostra televisione anche di Cecco che conduce la trasmissione Wisp correre per sport alberico di Cecco il re di Pescara festa con 2500 podisti il veterano batte in rimonta il marocchino Rock T Bianchi domina tra le donne vedete nella foto l'abbraccio tra il vincitore alberico di Cecco e Rock T secondo classificato e il terzo si tratta di strappato siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di lunedì 29 maggio con mattino 6 che tornerà domani alle 8 io invece vi rinnovo l'appuntamento con il prossimo la prossima finestra informativa della nostra emittente come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio voi per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata a Grazie a tutti Grazie a tutti